e si candiderà all'europea a proposito? Non lo so, è ancora molto presto, aspettiamo il congresso nazionale intanto per rispetto nei confronti dei delegati, poi deciderò nell'interesse di Forza Italia e anche ascoltando i leader del centro-destra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini per avere una strategia comunque che ci permetta di rafforzare anche la presenza del governo e rafforzare quando ci riguarda la presenza dei popolari europei nel governo italiano e rafforzarla anche in Europa.